io adesso purtroppo ho contato fino a quest'ora di rimanere però vorrei semplicemente dire due cose prendo proprio due minuti è una cosa che credo importante da sento credo del signore di enfatizzare c'è una cosa che spesso avviene quando ci avviciniamo per ricevere il battesimo dello spirito santo che ci blocca qualcosa che limita le persone spero che mi sentiate si sente la voce se si sente bene sì sì sento un disturbo forse soltanto qui al mio computer comunque quello che stavo dicendo è che spesso proprio il fatto di non sentirsi quasi degni di ricevere lo spirito santo è un blocco molto forte e vorrei dire due cose proprio solo su questo spero che possa essere anzi sono convinto che sarà di benedizione per alcuni perché lo spirito santo che sta mettendo pressione già da un po di parlare di questo quando noi ci avviciniamo soprattutto io vedo alcuni fratelli alcune sorelle che magari da un po di tempo che hanno pregato ma non riescono ancora a ricevere questa questa meravigliosa cosa del battesimo dello spirito santo e dopo un po si comincia a formare dentro di noi quella sorta di dubbio il nemico arriva e comincia a mettere dei dubbi ma forse non sono degno ma poi non sono per forza tutti che devono essere battezzati con lo spirito santo ma oppure io ho qualcosa che non va in me e questo incomincia a diventare come un limite come un muro tra noi e la semplicità infantile di chi afferra per fede le promesse del papà e e questo vorrei dirti una cosa che a me ha colpito soprattutto all'inizio si trova proprio in atti degli apostoli un versetto che dice così in capitolo 5 il versetto 32 dice noi siamo testimoni di queste cose anche lo spirito santo che dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono lo spirito santo che dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono e questa cosa era per me un punto interrogativo perché dicevo allora è solo per coloro che perfettamente ubbidiente a dio coloro che sta vivendo una vita perfettamente immacolata che veramente ha un comportamento ineccepibile irreprensibile in ogni cosa solo per quelle persone c'è il battesimo dello spirito santo ma chiaramente lo spirito santo mi ha fatto comprendere subito che non era quello che stava dicendo la parola l'ubbidienza non che di cui sta parlando qui la scrittura non è un'ubbidienza fatta di regole di precetti da seguire non è un'ubbidienza fatta di quante volte sei andato in chiesa o se dai la tua decima o se fai tutte le tue preghiere regolari all'orario preciso eccetera eccetera sta parlando dell'ubbidienza che troviamo nel capitolo 1 versetto 5 di romani capitolo 1 versetto 5 di romani è scritto così per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazie apostolato perché si ottenga l'ubbidienza della fede ripeto l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome di questa obbedienza di questa obbedienza è necessario essere ubbidienti questa sera per ricevere questo dono straordinario del battesimo dello spirito santo l'ubbidienza che quella posizione di cuore che dice signore se tu hai detto questo io ubbidisco e credo se tu mi hai detto di credere che tu non manchi in quello che vuoi darmi che non sono le tue promesse non sono vacillanti non sono incerte che tu non hai figli e figli astri che non hai a qualcuno a cui dai lo spirito santo e qualcun altro invece no se tu mi dici queste cose nella tua parola io credo che al di là delle mie mancanze al di là del fatto che qui c'è ancora una scritta lavori in corso da parte di dio se ancora sono in fase di formazione io so che tu mantieni le tue promesse e tu sei venuto quel giorno a pentecoste sui 120 c'erano discepoli che erano ancora increduli chi era un po così c'era tommaso che ancora aveva voluto toccare i segni dei chiodi toccare il costato di gesù e c'erano uomini che erano imperfetti pietro che aveva combinato tanti guai che aveva detto cose che non stavano né in cielo né in terra ripreso gesù persino ma lo spirito santo non fece una uno screening allora questi qui sono degni allora li battezzo questi altri no no questi ancora devono fare devono mangiare pane duro no 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 lui non fa così se tu hai fiducia se tu ubbidisci con la fede se tu metti la tua fede come un come una pista di atterraggio per le benedizioni di dio la fede è come la situazione ottimale che dio può utilizzare per arrivare e benedirti e riempirti della potenza dello spirito santo per cui questa sera quello che ti voglio dire non mettere limiti a lui perché lui non ha limiti verso di te ricordo che l'apostolo paolo diceva così ai corinzi diceva io non ho limiti verso di voi non abbiate limiti voi verso di me e così è dio verso di te non essere scoraggiato non essere scoraggiata se tu stai aspettando stai se ancora in quella situazione ti senti sempre più piccolo sempre più messo da parte perché non hai ancora ricevuto questa è la serata vai da lui adesso magari chiuderemo non so adesso quando chiuderemo sia sarà chiuso questo incontro ma vai un attimo da solo con lui da sola con lui diglielo signore io ti ringrazio perché io adesso mi afferro la tua promessa la promessa del padre che ha detto gesù che ha citato gesù la promessa che per mezzo di abramo signore della fede di abramo noi sono diventata parte figlia di abramo figlio di abramo e lo spirito santo promesso attraverso la promessa che tu hai fatto anche ad abramo e questa è una cosa profetizzata questa è una cosa che è stata detta fin da tutti i profeti che tu hai mandato signore e che noi oggi oggi per la fede in te possiamo ricevere il dono meraviglioso del tuo spirito e io ricevo questa sera ricevo lo faccio mio apri quella bocca inizia a parlare in lingua come lo spirito santo ti dà di parlare ti suggerisce ti spinge di fare e manifesta quello che dentro di te manifesta lascia che questa fonte dentro di te sgorghi abbondante e che tu possa essere veramente rivestito rivestita dalla potenza dall'alto e fare questo passaggio straordinario in una maturità maggiore cristiana per il servizio per essere ancora più efficace ancora più pieno di lui ancora più cesellato a immagine non solo ma anche a somiglianza di gesù che dio ti benedica che dio ti benedica che dio ti benedica nel nome di gesù Christo. Amen.